Con 450 presenze giornaliere, 5.000 iscritti e 60.000 libri prestati solo nel 2015, la Mediateca Montanare di Fano il prossimo 10 luglio festeggerà non solo i primi sei anni di attività, ma anche il successo ottenuto, cresciuto negli anni. Innanzitutto quest'anno sono state ampliate le iniziative in programma che prenderanno il via già dalla sera precedente, sabato 9, con un'apertura straordinaria. L'appuntamento è fissato per le ore 20 per una cena con la gluppa, aperta a tutti e organizzata in collaborazione con gli esercenti circostanti. Ognuno potrà portare qualcosa da casa e sedersi nei tavoli che saranno allestiti all'esterno della Mediateca, oppure acquistare la gluppa da asporto al prezzo di 10 euro in uno dei locali convenzionati. Durante la serata non mancheranno musica e spettacoli, per le ore 22 invece è attesa una sorpresa sulla facciata d'ingresso della Mediateca, dove sarà proiettato un video realizzato dagli studenti dell'Istituto Federico Seneca di Fano intitolato RAM, racconti a memoria. Nella giornata di domenica 10 luglio invece, dalle 16.30, la Mediateca diventerà una fucina di laboratori, mostre, dimostrazioni, incontri, letture, musica e tanto altro. E ogni compleanno che si rispetti non mancherà la torta realizzata dal Memo Cafè per festeggiare con i presenti e brindare al futuro. Le iniziative in programma sono rese possibili grazie al contributo della Fondazione Federiciana. I dati che abbiamo oggi sono importanti, segnano comunque che la presenza della Mediateca Montanari è una presenza forte, riconosciuta nella nostra città. Basti dire che abbiamo 130.000 utenze nel corso dell'anno solare e quindi chiaramente rappresenta a tutti gli effetti quella seconda piazza della città che noi amiamo richiamare di tanto in tanto. Però ci sono margini di crescita ancora molto grandi e proprio per questo vogliamo cercare di aprire ulteriormente la Mediateca Montanari alla città, anche con degli eventi che oltre ad avere una dimensione culturale ne abbiano anche una di forte socialità. Ed è questo il senso del calendario di oltre 20 eventi che nell'arco di 24 ore, dalle ore 20 di sabato 9 alle ore 24 di domenica 10 luglio, noi proporremo con appuntamenti appunto di carattere sociale, ludico, musicale oltre che culturale, proprio per festeggiare sicuramente questo sesto compleanno della Mediateca Montanari, ma anche per costruire una proiezione grande da condividere con tutta la città di quelli che sono non solo degli spazi ma anche una dimensione immateriale di socialità, di stare insieme, che questi numeri ci confortano, c'è la necessità di rilanciare con forza e di costruire con più convinzione ancora nel futuro.